Secondo le informazioni divulgate da Gianluca Di Marzio, il Milan ha benvenuti a Cagliari News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Cagliari. Ufficialmente annunciato la partenza del talentuoso terzino Michele Casali, nato nel 2005, che si trasferisce al Cagliari. Il giovane talento, che ha giocato con grande rilievo nelle categorie giovanili del club, è pronto per intraprendere una nuova fase della sua carriera sportiva. Il destino di Michele Casali lo porterà inizialmente a integrare la squadra del tecnico Fabio Pisacane nella primavera. Questa opportunità permetterà al giocatore di maturare ulteriormente le sue abilità e sviluppare il suo potenziale come atleta. Nella scorsa stagione, Casali ha dimostrato il suo talento sul lato destro della difesa, accumulando un impressionante totale di 18 partite con la squadra Under-19, sotto la guida di Ignazio Abate, oltre a 5 apparizioni con la squadra Under-18. Le sue prestazioni costanti e determinate hanno attirato l'attenzione delle selezioni giovanili italiane, portandolo a partecipare a 7 partite con la nazionale. Ehi tifoso rosso-blu, tu pensi che Casali meriti una chance nella squadra principale? Lascia la tua opinione nei commenti poiché è molto importante per il Cagliari.